Ciao a tutti ragazzi, sono l'interista Rosa Nero. Alle tre di pomeriggio c'è stata Inter-Livorno, scusate vabbè, c'è stato Palermo-Livorno, la prima in classifica, noi contro il Livorno. Purtroppo è finita uno a uno, purtroppo perché è un'occasione sprecata, potevamo fare un mini allungo sul Pescara, potevamo allungare sulle seconde, quelle che ci stanno dietro, andare a più sei, aspettare le loro partite in maniera tranquilla. Invece possiamo, rimaniamo primi, però con un solo punto di vantaggio. Peccato il mio rammarico è che sprechiamo tantissimo. Onore a Livorno che da ultimo in classifica comunque fino a un'ora di partita ha fatto una bella gara, ha contrattaccato, ha fatto il suo, un tiro, un gol, poi c'è stato quel tiro pericolosissimo di Diamanti. Miracolo di Pomini che ci ha salvato e ci ha lasciato sull'uno a uno, però prima di quell'occasione e dopo abbiamo sprecato troppi palloni. Siamo troppo poco cattivi dentro l'area di rigore. Bisogna cazzeggiare di meno solo perché sai di essere forte là davanti e prima o poi qualcuno la butta dentro. E bisogna veramente buttarla dentro perché altrimenti si va a finire che si buttano due punti nel cesso come oggi. Era un'occasione da non farsi scappare, non è arrivata la sconfitta, è arrivato il pareggio, però oggi dentro casa con l'ultima in classifica, con tutto il rispetto parlando per il Livorno, ci volevano tre punti. Non sono arrivati, pazienza, l'importante è sapere che teniamo la testa dalla classifica. Adesso la prossima bisogna assolutamente vincerla, bisogna essere cattivi là davanti. La davanti quando ti capitano i palloni li devi buttare dentro perché non ha senso creare dieci occasioni, segnarne uno e poi su uno che subisci perdi due punti. Bisogna essere più cattivi. Comunque ancora complimenti alla squadra che continua a non perdere, continua a essere prima, io sono sempre fiducioso per questo campionato perché si può vincere, ma attenzione a non buttare i punti nel cesso in questa maniera. Quindi ragazzi su Palermo Livorno io non ho altro da dire, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale dell'Interista Rosa Nero, noi ci vediamo dopo il prossimo post partita e sempre Forza Palermo!